www.boriziapolri.it Gli italiani e la pensione, e in questo caso la pensione integrativa. Una riflessione che prendo spunto da Andrea Rocco che ha pubblicato recentemente questa indagine, questa survey, come dicono quelli bravi, di Anima e SGR sull'importanza di una pensione integrativa alla pensione statale. Gli italiani sono consapevoli, oltre il 90%, che non basterà, quindi bisogna costruirsi una propria pensione integrativa. Ma cosa li frena da poter accedere a questo piano per il proprio futuro? Dice, vantaggi fiscali, una maggiore flessibilità per i prelievi, una di diversa comunicazione, vi riporto poi qui l'articolo che parla e potete vedere i dati, ma dice, partono bene tanto, dice, ma molti, sei su dieci, sono consci di questa sfida vada affrontata a meno 35 anni prima di quando avverrà questa cosa. Quindi tale consapevolezza però all'azione, per moltissimi però, è lasciata per strada. La metà degli intervistati non ha alcuna forma di previdenza integrativa e tanti di quelli che hanno sottoscritto un prodotto di previdenza integrativa non lo alimenta a sufficienza o in modo sistematico o cessa di apportare il contributo. Quindi gli aderenti non partono. Quindi c'è un difetto sì di comunicazione, c'è un difetto di consapevolezza no, perché la consapevolezza c'è che bisogna fare qualcosa, ma poi dall'azione a concretizzare e costruirci il tuo futuro non viene mai fatta. Vi riporto qui l'articolo e invito tutti a prendere una riflessione sul durante noi e il dopo di noi per quanto riguarda la vita lavorativa affrontando questo tema. Una buona lettura e alla prossima!